Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, nuovo aggiornamento per quanto riguarda la Thailandia. Facciamo un punto su quello che è il provvedimento che si è pubblicato anche su Viaggiare Sicuri, quindi le ultime normative che riguardano gli spostamenti per il turismo dall'Italia alla Thailandia. Mi avete chiesto qualche chiarimento in più, ora vediamo quelle che sono le disposizioni in merito e facciamo qualche ragionamento sull'eventualità di fare un viaggio in Thailandia da qui fino alla data, cioè il 15 dicembre, di validità del nuovo provvedimento appunto emesso il 22 ottobre. Poi facciamo una specifica anche per quanto riguarda Royal Vacation, so che tanti di voi stanno facendo poi preventivi per capire quanto può costare questo one day package per banco che tutte le varie postille appunto tra assicurazioni, tamponi e quello che è appunto necessario per tornare in Thailandia a partire poi dal primo novembre 2021. Direi quindi come sempre di non perdere altro tempo, direi ora sigla e poi cominciamo. Prima di cominciare il video, come sempre, se ancora non l'hai fatto, ti chiedo di iscriverti al canale cliccando sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video, delle prossime live che faremo sul canale e ti chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. In descrizione ti lascio anche il mio account PayPal, se qualcuno di voi vuole fare una donazione al canale, ovviamente è ovviamente ben accettata per consentirmi di sviluppare sempre più contenuti poi per quanto riguarda il canale e tutti gli argomenti appunto che sul canale trattiamo. Direi subito di andare su Viaggiare Sicuri e vedere appunto l'annuncio dell'aggiornamento del 25 ottobre. Quello che ci interessa è intanto vedere gli elenchi dei paesi aggiornati. Sappiamo che in questo momento i paesi sono classificati in cinque fasce, elenco A, B, C, D e E. Sono citati tutti i paesi nella zona E che è espressa in maniera residuale, compare anche la Thailandia perché non compare in tutte le altre zone. Quindi insomma Thailandia confermata in zona E fino a 15 dicembre, le notizie che abbiamo già dato poi già domenica sul canale. Tra l'altro Thailandia che quindi in questo momento ha le condizioni per accedere come ci siamo detti, insomma le possiamo riepilogare velocemente, tampone negativo 72 ore prima da partenza, ci sarà un Thailand Pass da richiedere su questo sito, adesso andiamo a vederlo, il visto qualora stiate più di 30 giorni, dopodiché non sarà poi necessaria la quarantena, servirà alla polizia di assicurazione. Per quanto riguarda la polizia di assicurazione c'è una specifica importante che mi ha condiviso un caro amico del canale Simone, il quale ha parlato appunto con Royal Vacation che ha confermato che le polizie di assicurazione emesse dalle compagnie con le quali si appoggia Royal Vacation sono valide anche se l'Italia in questo momento ha classificato la Thailandia in zona E, quindi siccome girava un po' questa cosa è stata smentita, quindi se andrete in Thailandia poi in questo periodo comunque la polizia sarà comunque valida in caso poi gli necessità verrà assolutamente poi liquidato nel caso appunto avesse bisogno di qualcosa. Per quanto riguarda l'approfondimento, quindi abbiamo detto Thailandia è zona E e quindi in questo momento insomma sappiamo che ci sono delle norme che consentono di andare poi in Thailandia diciamo all'interno di alcune condizioni. Le condizioni quindi sono queste come possiamo vedere appunto dal 26 ottobre a 15 dicembre, motivi di lavoro, motivi di salute, motivi di studio sotto urgenza, rientro, presso il domicilio, l'abitazione o la residenza propria o di persone anche non conviventi con cui vi sia una relazione affettiva e stabile. Quindi questi sono i casi ragazzi nel quale i viaggi in Thailandia al momento sono disponibili, evidente quindi che se qualcuno di voi ha una fidanzata o una compagna o una persona con cui abbiamo una relazione, anche se voi in realtà non abbiate in Thailandia, leggendo questa descrizione sembrerebbe che possiate andarci come motivi di salute, possono essere anche cure dentistiche o cure mediche. Sappiamo insomma che a Thailandia dal punto di vista sanitario ha strutture di ottimo livello, quindi ovviamente ognuno di voi deve fare le proprie valutazioni sulla finalità del proprio viaggio. Queste insomma sono le ultime norme appunto revisionate il 22 di ottobre. Direi quindi che in questo momento questa è la situazione, sappiamo insomma che appunto dal primo novembre invece sarà disponibile la piattaforma appunto Thailand Pass e adesso la andiamo a vedere ed è su questo sito, eccolo qui, tpconsular.go.th c'è anche in inglese, l'annuncio dice Thailand Pass sarà disponibile dal primo novembre alle ore 9, quindi insomma da lì si potrà cominciare a fare registrazione per ottenere il QR code del Thailand Pass che di fatto va a sostituire quello che è poi il vecchio certificate of entry, quindi la piattaforma non è ancora disponibile, sarà disponibile poi a partire appunto dal primo di novembre alle ore 9. Ripeto, poi sicuramente quando sarà live, sicuramente perché penso possa essere utile, faremo la simulazione per cercare di capire come muoversi, cosa dobbiamo applaudare anche se non mi aspetto niente di complicato ragazzi, mi aspetto qualcosa di molto simile in realtà al certificate of entry perché l'unica differenza è il fatto che poi il risultato deve essere un codice QR che vi consentirà di muovere in Thailand e non più un foglio nel quale è anche più difficile poi da controllare, ovviamente poi questi controlli ultimamente vengono sempre gestiti con i codici QR perché sono più veloci, sono più reattivi e danno un pochino meno problemi, quindi di fatto le notizie sono appunto, come dicevamo, Thailandia fino al 15 dicembre in zona E ma allo stesso tempo ci sono ben definite, anche se in realtà lo verano anche prima, queste 5 motivazioni che consentono comunque un viaggio in Thailandia specificando che non sono consentiti appunto spostamenti per turismo, però è anche vero che le 5 motivazioni sopra possono anche poi effettivamente giustificare poi un viaggio effettivamente in Thailandia. Ovviamente ragazzi fatemi sapere nei commenti qui sotto poi cosa ne pensate insomma di questa decisione, io personalmente sono rimasto molto sorpreso, mi aspettavo la Thailandia non più in zona E perché comunque la situazione dell'epidemia è assolutamente più sotto controllo, però ripeto evidentemente poi il ministro ha pensato diversamente, quindi è una decisione che sicuramente avrà avuto poi le sue basi scientifiche e non sono certamente io qua a contestarla. Ovviamente fatemi sapere appunto cosa ne pensate e se questa cosa qui può in realtà impattare un vostro piano di viaggio e se quindi magari avete deciso semplicemente poi di posticipare o addirittura di cancellare il vostro viaggio, scrivetemelo qui sotto nei commenti così poi possiamo appunto parlarne sempre sui commenti oppure magari nei prossimi giorni se riusciamo facciamo una live e ne possiamo discutere con più calma. Ovviamente ragazzi se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche sui prossimi video, sulle prossime live che faremo sul canale. Se ci sono altre domande poi che riguardano Thailandia e insomma tutte le misure che stanno uscendo in questo momento ovviamente scrivetemi così io poi tendenzialmente rispondo a tutti i commenti così cerchiamo di chiarire tutto. Direi quindi che per questo video sulla Thailandia è tutto e come sempre quindi ci vediamo sempre sul canale al prossimo aggiornamento. Ciao ciao e a presto!